L'importanza proprio delle olive, dell'ulivo nel Basso Solente in tutta la Puglia è perché poi è la nostra economia. Tutte le famiglie hanno un appezzamento di terreno che gli dà la possibilità, specialmente prima, ripeto, in qualche modo di sostentare la vita, mandare i figli a scuola, sposare i figli.